Fuga da Kabul, caos all'aeroporto, scontri e morti nell'est del paese, i talebani sparano sulla folla, i talebani sparano sulla folla, i talebani sparano sulla folla. Allora in Italia, invece di occuparsi di cose nostre, c'è un pseudo leader, tale Conte, il Conte Conte, che con un'aria sofisticata dice sì al dialogo serrato con i talebani, sì al dialogo serrato. Ma che cazzo dice questo imbecille? Il regime si è dimostrato distensivo? Il regime è quello che i talebani sparano sulla folla. Ma come si può? Si può dialogare con Hitler? Si può dialogare con Mussolini? Si può dialogare con il fascista che uccide? Certo, il fascismo è una questione molto complessa in Italia perché è stato demolizzato anche dove in un certo momento della sua vicenda ha fatto alcune cose che hanno una loro logica. Ma sparare sulla folla, sparare sulla folla, caro Conte, è tutto meno che distensivo. Il Demente scrive sì al dialogo serrato con i talebani. Ma quale dialogo? Ma vai tu a dialogare! Vai tu! Vai in prima persona! Tu con i tuoi cinque stelle del cazzo! Il regime si è dimostrato distensivo. Intanto le donne fuggono, si nascondono, hanno paura. Certo, hanno fatto dichiarazioni distensive, ma poi nei fatti il regime spara e lo fugga. Il regime! Si chiama regime. I talebani sparano sulla folla. E lo chiama regime perfino il continuo. Sì, al dialogo serrato con i talebani. Dialogo serrato. Ma che dialogo? Ma te lo fai mettere nel culo tu, nei talebani. Incapace! Il regime si è dimostrato distensivo. Anche poi un regime, se è regime, essere distensivo. Il regime è intollerante. Il regime è autoritario. Il regime è impositivo. Non può essere distensivo. Cosa dici? Che cazzo di lingua usi? Incapace! Vai tu a dialogare con loro. Vai tu! Intanto che le donne si nascondono. Intanto che scappano. Intanto che la gente viene uccisa per strada. Poi si può discutere di tutto. Che gli americani non fossero meglio. Questo l'ho detto per primo. Gli americani erano intesi come oppressori. E quindi, almeno fra loro, si intendono. Il dialogo dovrà avvenire tra un Islam cosiddetto moderato e il regime. E con molta difficoltà. E se si chiama regime, se sparano sulla folla. Quale dialogo? Quale dialogo, Conte? Di che cazzo di dialogo parli? Vergognati! Grazie!